Facile sì, ma soltanto negli ultimi 10 minuti. Dice poco in realtà l'82-57 finale non racconta tutta la verità di una partita decisa nel parziale conclusivo. Missione compiuta in ogni caso per i Lions che battono con un più 25 Porto Sant'Elpidio sul parquet amico del Paladolmen, tornano a vincere nel campionato nazionale di Serie B e collezionano il sedicesimo successo stagionale in 24 partite giocate. Buone risposte per i bicegliesi arrivano anche soprattutto dalla fase difensiva dopo i 91 punti incassati nella precedente gara persa a Chieti, confermato il quarto posto in graduatoria, due sole lunghezze dall'ultimo gradino del podio e a meno 4 dalla piazza d'onore. Partono bene i pugliesi e 9-2 in avvio e 16-8 alla prima interruzione e 42-34 all'intervallo lungo. Porto Sant'Elpidio però non molla, resta in partita e rosicchia a qualche punto nel terzo periodo chiuso avanti di 5 lunghezze dei padroni di casa nei conclusivi 10 minuti. Invece non c'è proprio storia, i bicegliesi passano dal 56-51 al 76-51 con un parziale di 20-0 che fa tutta la differenza del mondo nell'economia complessiva della contesa. Il finale è senza brevi di pari Lions che possono brindare al successo. Doppia cifra per 13 autore di 20 punti, Cantagalli con 18 e Rossi con 15. Devo dire che hanno fatto comunque per 40 minuti una grande prova in difesa e spesso anche con quintetti atipici dove abbiamo messo comunque da guardia e da ala, mazzarese e chiriatti e quindi proviamo anche a cambiare sia sulle uscite che sui pick and roll. Ricordo speciale per l'occasione, i cessisti nerazzurri hanno effettuato l'intero riscaldamento pre-gara indossando t-shirt celebrative esibite anche da allenatori componenti dello staff e della dirigenza, mentre gli atleti della formazione ospite hanno mostrato lo striscione del presidio libera Sergio Cosmai di Biceglie durante la presentazione e l'esecuzione dell'ino di Mameli. Domenica prossima infine alle ore 18 derby di Puglia in trasferta per i Lions, di scena a Nardò, avversario tutt'altro che proibitivo ma nemmeno abbordabile. Ogni squadra da chiedere ancora qualcosa al campionato e ora saranno partite durissime punto a punto, quindi dobbiamo essere sicuramente ripartire come abbiamo fatto oggi dalla difesa per 40 minuti, solo quella è la chiave per giocarci le prossime partite.